Ciao ragazzi! Donne, via! Tutto finito. Ci vedremo domani. No, che vengono in quell'altra casa. Dove andiamo adesso? Via Garibaldi. Via Garibaldi. Via Garibaldi numero? Di fronte panellino. Perfetto. Sono pronto lì. Sei pronto? Sono pronto come letterica. Sono di Verona, ma ambito da 5 anni. Ambito forse in uno dei punti più strategici ed educativi, quindi subisco anche quella che è il flusso ed è stata una giornata meravigliosa. Tocasa è un'altra cosa meravigliosa, secondo me, dove c'è la possibilità per tutte le persone che vengono da fuori, ma anche gli stessi veronesi, di entrare nelle case del centro storico e farci raccontare un qualcosa del quartiere, della via dove abiti, dove sono ospiti. Anche gente che viene da fuori per conoscere un po' più la cultura veronesa. Al Tocatì, inossidabile. Cioè io al Tocatì, cascasse il mondo, io arrivavo e facevo Tocasa. Non ho neanche più la casa mia. Cioè è una delle battute che si fa, che faccio Tocasa e non ho casa. Pensa che ci sono... Guarda, stai qua. Quest'anno, emozione, pelle d'oca, sono state due coppie, una giapponese con il compagno, che vengono ogni anno al Tocatì e due bolognesi che si ricordavano ancora il primo di quattro anni fa fatto in Sottoriva e ogni anno vengono... E io in realtà l'anno scorso, non ci avevo proprio fatto caso, ma quest'anno sono palesati. Io ho detto, queste facce le ho già viste, le ho già viste. Mi hanno detto, no. Quindi siamo sempre venuti a tutti i vetroiali.